Gentilissimi, un calorosissimo saluto come sempre dagli studi di Affordable Art Point. Voglio ricordare il nostro ormai consueto appuntamento ogni domenica e lunedì sera dalle 21 alle 21 e 30 sui nostri canali, canale 78 in digitale terrestre, un canale interamente dedicato all'arte Sky 918, ma anche il nostro canale streaming all'interno del sito www.affordableartpoint.com o se preferite www.arteaccessibile.it Allora signori, questa sera come vedete, vedrete tra poco in sovraimpressione, speciale Maurizio Zanotto, stiamo parlando di per realismo e lo faremo con un personaggio illustre, è da voi richiesto, scusate il gioco di parole a grande richiesta, sto parlando del professor Diego Collovini. Professore, grazie infinite di essere con noi. Buonasera a tutti e vi ringrazio di un invito. Io so che è reduce da una maratona, maratona in senso di fatica, non maratona di corsa, e quindi il nostro ringraziamento è doppio, perché ci ha raggiunto proprio il rirrotto della cuffia qui nei nostri studi di Marcon. Allora, parliamo di per realismo, parliamo di uno dei più grandi, almeno nostri artisti, delle scuderie di affordable, Maurizio Zanotto. Io sono andato a leggermi la sua biografia, i suoi scritti, lui mette tanto in risalto il senso della bellezza, lui dice questo senso della bellezza di cui ormai non ci accorgiamo più e che di fatto invece ci circonda proprio nelle cose quotidiane, dalle piccole alle più grandi. Addentriamoci proprio nell'arte di Maurizio Zanotto. Sì, io credo che qualsiasi collezionista abbia il piacere di avere almeno due lavori di Zanotto in casa, non solo per le ragioni relative alla bellezza o alla immediata esplicitazione dell'opera, che è immediatamente riconoscibile, insomma si tratta chiaramente di una natura morte. Dico due opere perché sono opere che devono confrontarsi, devono dire alle gare tra di loro, perché la pittura di Zanotto deve essere svelata, deve essere individuata, deve essere conosciuta, perché in realtà non è solo l'aspetto della figura, tanto che siamo subito portati a pensare o a immaginarci un rapporto storico e consecutivo pensando al canestro di frutta di Caravaggio, per esempio, o a tantissime nature morte di Cézanne. In realtà sarebbe ingeneroso se noi affrontassimo una lettura delle opere di Zanotto sotto questo aspetto, cioè non c'è nulla che lega la pittura di Cézanne o di Caravaggio con Zanotto. Ma questo è perché la pittura di Zanotto, che lui stesso definisce iperrealista e quindi fa riferimento chiaramente al movimento artistico degli anni 70, lo fa chiaramente escludendo alcuni aspetti che sono particolari della pittura, come è quella per esempio del tempo. Nelle opere di Zanotto quello che è assente, quello che non si vede è proprio l'idea di tempo. L'idea di tempo. Allora, professore, la interrompo un attimo. Andiamo subito a vedere le opere a parete, quindi vado a salutare Giulio e Carlo alla regia. Addentriamoci proprio, andiamo a sentire, a scoprire proprio quello che ci sta raccontando il professor Collovini. Peraltro, illustre personaggio, potete trovare tutto su di lui, basta andare su Google, digitare Diego Collovini e vedrete insomma il suo lungo curriculum, anche rivista di cui parleremo comunque prossimamente. Opera numero uno, grazie Giulio. Allora, professore, diceva una condizione temporale, comunque senza tempo. Sì, perché è un paradosso se pensiamo all'idea di pittura nell'iperrealismo. Tanto il termine iperrealismo vuol dire più reale della realtà e senza scomodare la logica hegeliana, quando diciamo più reale della reale significa che non è più reale ma è già una cosa astratta, quindi una cosa che non troviamo, una raffigurazione che non troviamo nella realtà. E questo perché? Perché nell'iperrealismo c'è questo duplice aspetto che è dato da un momento statico, che è quello della fotografia, e un momento invece dinamico, che è quello della pittura. E voglio spiegarmi un po' meglio. Ecco, perché c'è una forte contrapposizione tra la pittura e la fotografia. La pittura è un'azione creativa che parte da un progetto, un'idea e un'evoluzione, che porta alla costruzione di una emozione. Si tende a costruire un'opera che possa essere condivisa, che entri quindi in simpatia con il fruitore, e quindi si dà questa emozione. La fotografia ragiona direttamente, cioè in un modo completamente diverso rispetto alla pittura. È un attimo, un secondo, che coglie un'emozione. Un'emozione che non è creata dall'artista, ma è raccolta direttamente dalla realtà. L'iperrealismo in realtà che cos'è? È il dipingere una fotografia. Quindi il lavoro è questo, di raccogliere un'emozione che non è un'emozione creativa, ma la si raccoglie dalla realtà, e attraverso la pittura, quindi attraverso la dinamica, si tende a mantenere la temporalità ferma, quindi il tempo, il momento dello scatto fermo, e lo si amplifica e gli si dà tutte quelle caratteristiche e forme espressive che sono proprie della pittura. Ecco perché diventa, come viene sostanzialmente affermato anche da Raphael, che è uno dei più importanti esponenti dell'iperrealismo, lui dice, io tramite la fotografia posso dipingere nel mio studio, in estate, un paesaggio invernale. Ecco, anche con questa affermazione sostiene questa diversità. Ecco perché in Zanotto è veramente efficace l'aspetto della pittura. Lui sostiene, anzi difende moltissimo la capacità tecnica, l'abilità del dipingere. E sa perfettamente che una volta che l'immagine è di per sé completata, perché è stata raccolta immediatamente dalla realtà, con la pittura riesce a dare quegli effetti che sono immaginifici che partengono alla pittura. Se fosse diversamente, dovremmo confrontarla con, per esempio, i cicli della cattedrale di Rouen di Monet, quando tentava di rappresentare la cattedrale nei diversi momenti della giornata. E cosa accadeva? Accadeva che i colori cambiavano, il taglio di luce cambiavano, e l'immagine, a vederla, non è mai la stessa. Perché c'è questo aspetto, questo divenire delle cose, questa mutevolezza delle cose. Zanotto invece riesce a raccogliere l'attimo, e quell'attimo dà tutta la forza che è quella della pittura. Della pittura. Allora, andiamo a vedere proprio, ecco, il fissare l'attimo di cui parlava il professore con la forza della pittura. Allora, l'opera numero 5, intanto in quadrata, come ci richiedono, vedete, 27 centimetri per 40. Stiamo parlando, questo è uno speciale Maurizio Zanotto. Allora, lo vedete l'opera numero 5? Qui c'è questo contrasto tra bianco e nero. Tra l'altro lo sfondo, il sfondo nero, lui lo utilizza spessissimo. Sì, lo utilizza, il nero, chiaramente, come sfondo, è l'assenza di luce. Il nero raccoglie tutti quanti i raggi della luce. I punti luce e i colori, i segni, invece rimandano la luce allo spettatore. Ecco che con questo stratagemma, con questi punti bianchi che mette nel contrasto cromatico, risaltano e danno quel momento in cui diceva in cui la luce è ferma, ferma immobile in quel punto, batte precisamente in quel punto ed ecco che si riesce, attraverso il chiaroscuro, attraverso questi punti in chiaro e altri in ombra, a dare quella forte tridimensionalità apparente che è tipica della pittura. In fotografia questo c'è difficile farlo, certo no, certo no. Benché la raffigurazione sia la stessa. E credo che questa è la capacità, proprio la grande abilità dell'artista, sia proprio questa, questa, come dire, emotività che si riesce ad esprimere in una figura, in un'immagine che a guardarla ci dà proprio il senso della staticità, del non movimento, di questa percezione attemporale che continua, nonostante tutto, a essere tale, a essere tale nel tempo. È proprio una strarre dalla realtà, un momento particolare che non è, ripeto, della fotografia, perché la fotografia serve solo per bloccare l'attimo, l'attimo della percezione. Se dovessimo immaginare un pittore che fa una natura morta, dopo un quarto d'ora avrebbe la luce leggermente spostata in un'altra parte. E non è solo questo, è anche la percezione personale dell'individuo che nel tempo... Nella sua interpretazione. ...l'interpretazione della luce, che non è mai uguale a se stessa. Allora, stiamo vedendo l'opera numero 5, è una vela perla, 27 cm per 40. Andiamo a rivedere le opere a parete. E intanto, Carlo, quindi che è alla regia, io mostrerei, preparerei comunque il filmato, un video che fa vedere proprio come Zanotto lavora. Quello relativo partirei dal calice, però. Carlo sa perfettamente a cosa mi vado a riferire. Allora, l'opera numero 1, lo vedete, quest'opera dove ci sono questi spicchi di mandarino, l'uva, la melagra... Prego, sì, sì, sì. Certo, certo, certamente, certamente. 40 cm per 60, l'opera numero 1. Intanto saluto Diego da Napoli, che è con noi online, Carlotta da Gubbio. E, allora, sì, ricordo nuovamente le dimensioni dell'opera numero 1, 40 cm per 60. Quando siete pronti? Ok, allora, ritorniamo un attimo in studio e facciamo vedere, guardate, un brevissimo filmato di pochissimi minuti. guardate, Zanotto, è un piccolo assaggio di come lavora, i vari passaggi, che poi il professor Collovini ci illustrerà nella minuzia dei particolari. Prego. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, è arrivata a leggere una, per esempio, Carlotta da Gubbio e chiede, professore, a volte mi capita di leggere nei forum che le opere iperrealiste hanno tanta tecnica e poca anima. Qual è secondo lei l'anima di un dipinto iperrealista? Beh, io dico che l'abbiamo appena vista. Comunque, prego, professore. Ma coglie perfettamente la nostra telespettatrice il concetto di imperialismo. In effetti, prima, parlando delle opere di Zanotto, parliamo di un'anima che è quella della pittura, non quella del contenuto. Nell'opera di imperialista, proprio per questa astrazione della realtà, proprio per questo estraneare la temporalità, è essenzialmente una figura vuota. Come vuote sono tutte le immagini che abbiamo, le opere che abbiamo di Zanotto. Non si vede, non c'è la presenza dell'uomo. Non c'è nessuna delle composizioni. Sono anche le stesse composizioni, sono, come dire, composizioni quasi scomposte, come a volte scomposta è la natura nel suo presentarsi, pur essendo perfetta. E la pittura imperialista è perfetta nell'essere pittura. Noi abbiamo visto adesso il video, che è un video che guarda all'interno dell'opera. Si vede la trama della tela, si vede l'ordito e si vede anche la pennellata. Quello che, nell'immediato della percezione di qualsiasi opera imperialista, non c'è. Perché lo scopo è proprio questo, di nascondere la pittura in quanto tale, ma di servirsi dell'apertura per ricostruire un'immagine che, ripeto, è astratta, è un'immagine che è pensata proprio perché non ha più una corrispondenza temporale con la realtà. Allora, professore, andiamo a vedere intanto quest'opera numero due, questo vaso di fiori, 60 cm per 50, una tecnica raffinata e una tecnica affinata, questa di Maurizio Zanotto. Intanto, entriamo proprio nei particolari di quest'opera. Prego, prego, professore. Vale la pena di soffermarci un attimo su quest'opera perché è caratterizzata da un fascio luminoso di luce che arriva da una fonte laterale. E vale la pena anche soffermare lo sguardo, non solo sul panneggio che ci ricorda un po' la pittura rinascimentale, ma sulle gradazioni del giallo, dei fiori. Come vedete ci sono quasi tutte le diverse gradienze del giallo, della luce che porta da un volume, che è quello del punto luce iniziale, a quello in ombra e lo fa proprio attraverso questa capacità di utilizzare la pittura nel dare questo volume. E vorrei ricordare, ancora una volta, che difficilmente una fotografia riesce a raccogliere questo tipo di gradazione cromatica. È noto e risaputo che un tempo nella fotografia c'era la camera oscura e si elaborava nella camera oscura. Adesso lo si fa con il software, essenzialmente con il PowerPoint. Ma anche il PowerPoint, proprio perché ha un sistema di trasformazione, che poi è quello dei quadratini, dei pixel, non riuscirà mai a fare, a ottenere un risultato di questo. Del genere. Del genere. Perché la scomposizione, cioè la ricomposizione del colore nel sistema informatico è un sistema tipo quantinismo, cioè lo percepiamo attraverso l'occhio. Nelle pitture invece di Zanotto lo fa con i colori e questo è molto difficile. Difficilissimo. Allora, facciamo una breve carrellata. Allora, l'opera numero due, il vaso di fiori, 60 per 50. Rifacciamo vedere un attimo, scusa, quella terra, Giulio, come ci richiedono. L'opera numero cinque, di cui abbiamo parlato, comunque abbondantemente, 27 centimetri, l'altezza per 40. E poi, di nuovo l'opera numero uno, a parete, facciamo una sintesi delle opere appena viste, 40 centimetri per 60. E andiamo a vedere l'opera numero tre, nella quale, tra l'altro, vorrei mostrare anche un altro filmato. Chiedo scusa, ma è importante vedere proprio, tra l'altro arrivano proprio dall'archivio questi video, questi filmati del nostro artista. Vediamo un attimo l'opera numero tre. Vediamo un secondo l'opera numero tre. Ecco, la milagrana, vedete, sempre lo sfondo nero, di cui il professor Colovini ci ha parlato, 40 centimetri per 50. Possiamo zoomare un attimo e dopo mandare in onda il filmato relativo. Guardate la perfezione. Ecco, potrei suggerire di guardare poi il filmato, perché l'opera è costruita attraverso una serie di velature. Di colore su colore, colore su colore, e si ottengono questi bellissimi effetti, appunto, della riflessione della luce e dei chiaroscuri che danno quella voluminosità che è propria dell'opera. E si osservi anche la parte dell'assenza di luce, che è il nero, che fa da sfondo. Ok, allora, mandiamo in onda appunto il filmato, come peraltro suggerito anche dal professor Colovini. Prego, poi torniamo in studio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Ben ritrovati in studio, signori. Allora avete visto questo pezzo di filmato, estrapolato proprio dall'archivio di Maurizio Zanotto, che abbiamo intravisto con il suo pennello, appunto a creare questa stupenda opera. Allora, professore, al di là degli infiniti, i propri passaggi che lei ha menzionato, e qui c'è infinita pazienza, grande capacità, peraltro, di concentrazione, oltre ad un'eccezionale manualità. Cioè, l'importanza di questi lavori. Quanto lavoro c'è dietro queste opere? Bene, vale la pena fare una brevissima riflessione sulla tecnica, che è quell'abilità di utilizzare gli elementi espressivi della pittura. Io sono convinto che nei cicli espressivi dell'arte la pittura abbia sempre un momento in cui riappare. Riappare passa qualche volta anche in ombra, ma alla fine, se la pittura riesce ad essere più espressiva ancora della fotografia, vuol dire che la tecnica non è una semplice qualità, è, credo sia anche, un dono. Un dono che va coltivato e che va anche, come dire, gli ha fermato come strumento espressivo della pittura. Allora, professore, intanto continuiamo a vedere appunto l'opera Parete, l'opera numero 3, 40x50, la Milagrana. Andiamo a vedere anche l'opera numero 4. Vi voglio leggere un piccolissimo, due o tre parole, mentre ci costiamo quest'opera, di Maurizio Zanotto, che dice che i miei dipinti vogliono dire fermati un attimo, osserva, gustati la vita che ci circonda. È un po' questo, no, il messaggio, professore, che queste opere... Fermare la vita significa toglierla dal tempo e dall'evoluzione, raccoglierla nel momento in cui è apparsa e nel momento in cui ci ha creato l'emozione per essere guardata. Guardata. Allora, questa è l'opera numero 4, lo vedete, è la Milagrana con l'uva, anche questi chicchi, no, che rotolano via, 40 cm per 50, ovviamente, signori, le quotazioni di mercato ai centralini. Io vado a salutare Fernando da Monaco, poi Diego da Napoli, che ci scrivono, ci fanno i complimenti. E voglio fare di nuovo una carrellata, per favore, una carrellata dei dipinti qui in studio. Allora, l'opera numero 1, velocissimamente, 40 per 60, sì, quest'opera, eh, con l'uva, spicchi di mandarino. La numero 2, il vaso di fiori, con questo fascio di luce che, giustamente, il professor Collovini faceva vedere, ne sottolineava l'importanza, al di là della maestria, della tecnica, della bellezza di quest'opera, 60 cm per 50, e poi l'opera nella nostra parete rossa, che abbiamo visto, tra l'altro, il filmato, con i vari passaggi, gli infiniti passaggi, la pazienza, la tecnica, la cura del dettaglio, 40 cm per 50, la melagrana, poi l'opera numero 4, la melagrana più l'uva, 40 cm per 50, infine l'opera numero 5, ai nostri piedi, 27 cm di altezza per 40. Un'ultimissima domanda, velocissima, perché qui, in diversi, ci chiedono, la pittura iperrealista è la più difficile tra le pitture, Diego D'Annafoli? Secondo lei? No, la pittura è pittura, chi si applica la pittura, fa la pittura che ritiene sia la sua pittura. La sua pittura. E velocissimamente anche qui, Fernando da Monaco, peraltro, che andiamo a salutare, che mercato ha l'iperrealismo, a livello di critica? Difficile? Non c'è un mercato, c'è l'attenzione da parte dello studioso, questo sì, e chi si occupa di critica ad arte sceglie un campo nel quale puoi applicarsi. Chiaramente, ripeto, la pittura è sempre quel fascino che ha la creatività dell'individuo di esprimersi con strumenti che non sono quelli della parola, quelli che stiamo usando noi. Certo, stiamo facendo... Professore, grazie infinite di essere stato... Grazie a voi e della pazienza di ascoltarmi. Ah no, pazienza, per me è un piacere e un onore, sicuramente anche dai nostri telespettatori che ci stanno seguendo e scrivendo. Tanto, dopo 5-10 minuti, che lei è qui, noi chiudiamo meccanicamente la chat, perché altrimenti saremo inondati da domande. Professore, grazie ancora. Allora, ci vedremo la prossima volta, sicuramente. Speciale Maurizio Zanotto, continuate a chiamare, a whatsappare, come dico sempre, nel numero che vedete che è in sopraimpressione. Non andate via, perché le nostre trasmissioni continuano sui nostri canali, canale 78 del Digitale Terrestre, Sky 918, e soprattutto i streaming, grazie al nostro sito www.affordableartpoint.com Da Alessandra è tutto, buon proseguimento di serata, grazie infinite. Grazie a tutti.